le sanzioni contro la russia sono sanzioni anti giudaiche anti ebraiche le cose ve le spiega Serafino Massoni e questo signore qua vedete si è scritto qua Serafino Massoni ha già compiuto 82 anni opera sulla grande piattaforma mondiale youtube e su youtube Serafino Massoni ha circa 12 milioni di visualizzazioni le cose che vi dice Serafino Massoni e non ve le dice neanche il grande politologo Dario Fabri che lavora in equip con Enrico Mentana ma neanche Francesca a Mannochi in pratica non ve le dice nessuno certe cose voi le potete apprendere solo da Serafino Massoni vedete questo questa è l'ultima l'ultima opera di Serafino Massoni un romanzo storico ambientato dentro il terzo Reich vedete bene da una parte la stella di Davide e dall'altra la croce uccinata perché tutta la questione della guerra in Ucraina si muove da stella di Davide croce uccinata vediamo com'è la situazione cari amici allora noi 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 dall'occidente dire occidente si dice patto atlantico stati uniti ed eurozona la nato la nato e abbiamo varato le sanzioni contro contro la russia e io vi spiego che le sanzioni contro la russia sono sanzioni anti ebraiche anti giudaiche sono sanzioni contro gli ebrei sì sì e ci salta fuori lo stato di israele ci salta fuori allora noi abbiamo fatto queste sanzioni no per mettere in ginocchio la federazione russa perché la federazione russa russa tramite Vladimir Putin aveva detto che intendeva de nazificare l'Ucraina così come nel corso della seconda guerra mondiale ci fu il processo di de nazificazione della Germania perché purtroppo purtroppo la grande Germania nel corso della della seconda guerra mondiale aveva fatto la shoah vedete eccola qua la shoah vedete la croce uccinata dire shoah vuol dire 5 6 milioni di ebrei europei messi nei lager poi nelle camere a gas e poi lassù nei forni crematori e la shoah è stata fatta nel cuore dell'europa è l'europa cristiana non è mica stata fatta nell'urse di jose stare nella shoah la russia atea insomma per modo di dire perché la russia in pratica è tutta cristiana agricoltodossa e adesso siamo tornati noi tornati a quella lontana situazione perché nessuno ve l'ha detto ma ve lo dice Serafino Massoni che le sanzioni contro la russia contro la federazione russa sono sanzioni anti giudaiche anti ebraiche dobbiamo ricordare che la rivoluzione russa 1917 1918 poi la nascita dell'urse e la rivoluzione russa e fu diciamo così un'idea degli ebrei della russia erano quasi tutti ebrei e i dirigenti i dirigenti i bolshevichi quasi tutti ebrei erano sì 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 per cui la federazione russa cioè la lussa di jose stalin era il cuore il cuore il cuore era il centro il centro che di protezione degli ebrei tant'è vero che con la caduta dell'urse e con l'ingresso del capitalismo nella federazione russa sono tornati anche i ricchi e i poveri nella federazione russa di vladimir putin ma guarda caso quasi tutti i ricchi gli oligarchi sono quasi tutti ebrei eh sì vuol dire che gli ebrei ci stanno bene in russia ci stavano bene ai tempi dell'urse e ci stanno bene ai tempi della federazione russa di vladimir putin sono quasi tutti ebrei però succede che tra le sanzioni che noi occidentali abbiamo parato contro la federazione russa vedi ce ne sono tante le sanzioni queste sanzioni non riguardano soltanto il il metano siberiano che a noi è tanto caro ma riguardano pure gli oligarchi riguardano pure gli oligarchi riguardano gli oligarchi russi ovviamente che sono quasi tutti ebrei sono quasi tutti ebrei poi è successo che con la guerra in Ucraina tanti ebrei si trovavano in Ucraina perché in Ucraina c'è una grandissima comunità ebraica che si lamentava si lamentava dell'anti iudaismo che c'è in Ucraina allora un po' per colpa delle sanzioni le nostre sanzioni contro la federazione russa un po' per colpa della guerra in Ucraina è successo che tantissimi oligarchi russi e tantissimi ebrei dell'Ucraina si sono basati sulla la legge del ritorno la legge del ritorno è una legge dello stato di Israele che consente agli ebrei agli ebrei del mondo di trovare rifugio in qualsiasi momento nello stato di Israele si chiama la legge del ritorno a seguito delle sanzioni delle sanzioni nostre nostre sanzioni occidentali contro la federazione russa e a seguito della guerra che c'è in Ucraina c'è stato un esodo un esodo verso lo stato di Israele da parte di tanti oligarchi russi che sono quasi tutti ebrei e da parte di tanti ebrei della comunità ebraica ucraina sulla base della legge del ritorno la legge israeliana del ritorno per cui negli ultimi due mesi lo stato di Israele ha visto un afflusso nel proprio territorio di parecchi oligarchi russi ebrei ma anche da parte di tanti ebrei non oligarchi che vivono in Ucraina perché in Ucraina le cose si sono messe male in Ucraina gli ebrei non sono mai stati trattati bene mai 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 ma da molto tempo è prima ancora che che diventasse presidente Zelensky l'Ucraina ha sempre avuto un particolare amore l'Ucraina per la la croce uncinata allora devo precisare che noi noi umani su questo pianeta siamo 7-8 miliardi invece gli ebrei sul pianeta sono 15-16 milioni state un po' poi il conto noi noi che non siamo ebrei siamo 7-8 miliardi loro che sono ebrei sono soltanto 15-16 milioni la metà di questi 15-16 milioni di ebrei stanno dentro lo stato di Israele perché l'altra metà è sparpagliata nel mondo ci sono ebrei in Inghilterra ci sono ebrei negli Stati Uniti soprattutto ci sono ebrei nella federazione russa quindi sono pochi gli ebrei nel mondo ripeto sono 15-16 milioni di ebrei a fronte di noi che non siamo ebrei siamo 7-8 miliardi pensate un po' voi che differenza che c'è e la metà di questi 15-16 milioni di ebrei la metà stanno nello stato di Israele l'altra metà è sparpagliata per il mondo comunque a seguito delle nostre sanzioni contro la federazione russa sanzioni che sono andate a colpire anche gli oligarchi russi che sono quasi tutti ebrei e a seguito della guerra ora nello stato di Israele c'è stato un afflusso notevole di ebrei provenienti sia dalla federazione russa per via delle sanzioni occidentali che hanno colpito anche gli oligarchi russi e provenienti ebrei anche dall'Ucraina per il fatto che in Ucraina c'è la guerra e quindi tanti ebrei dell'Ucraina hanno pensato di avvalersi della legge israeliana legge del ritorno e di andare di trovare rifugio in Israele la legge del ritorno per cui in Israele c'è stata una nuova migrazione ebraica una nuova migrazione ebraica e questo nuovo flusso di ebrei dentro lo stato di Israele non è stato ben visto dai palestinesi non è stato ben visto dai palestinesi per cui sapete bene che nelle ultime settimane ci sono stati degli scontri dentro lo stato di Israele ci sono stati degli scontri tra gli ebrei dello stato di Israele e i palestinesi i quali palestinesi non vedono di buon occhio questa ondata di nuovi arrivi di ebrei nello stato di Israele sia di oligarchi ebrei russi che di ebrei dell'Ucraina ci sono stati degli scontri perché i palestinesi i palestinesi non non vedono di buon occhio lo stato di Israele i palestinesi se potessero se potessero distruggerebbero lo stato di Israele allora all'interno di di questa piccola guerra civile che è recentemente scoppiata dentro lo stato di Israele tra l'altro si è anche verificato l'assassinio di una giornalista di Al Jazeera e la comunità occidentale noi dall'occidente abbiamo detto che questa giornalista di Al Jazeera è stata uccisa dagli israeliani ma il governo israeliano ha detto no no perché qua da noi nello stato di Israele è in corso una piccola guerriglia diciamo così una piccola guerra civile tra noi israeliani e i palestinesi e nel corso di queste scaramucce un proiettile partito da chissà chi ha colpito questa giornalista di Al Jazeera ecco però ciò che accade in Israele è stato provocato dalle nostre sanzioni occidentali contro la federazione russa e si ritorna alla questione ebraica si ritorna alla questione ebraica perché noi dell'occidente non ci siamo resi conto che le sanzioni contro la federazione russa non andrebbero a colpire soltanto Vladimir Putin che taluni hanno definito un macellaio altri un assassino altri peggio di un animale ma vanno a colpire anche gli ebrei vanno a colpire gli ebrei perché guarda guarda caso che gli ebrei in Russia sono sempre stati trattati bene e sono stati gli ebrei che hanno guidato la rivoluzione d'ottobre nel 1917 diciamo che è stata un'elite ebraica a fondare l'URSS Unione Repubblica Socialista e Sovietica senza rendersene conto l'occidente inteso come nato come alleanza atlantica senza rendersene conto l'occidente come alleanza atlantica il capo dell'occidente attualmente è il presidente americano Joe Biden senza rendersene conto sta facendo dell'anti-ebraismo dell'anti-giudaismo è un po' quello che faceva Adolf Hitler Adolf Hitler con le leggi anti-ebraiche e fu proprio a causa delle leggi anti-ebraiche che poi ci fu la seconda guerra mondiale noi stiamo facendo la stessa cosa grosso modo quando si parla dei corsi e ricorsi storici sono i corsi ricorsi le situazioni sono analoghe non le stesse e grosso modo senza rendersene conto l'alleanza atlantica cioè un pezzo dell'occidente che è l'alleanza atlantica è andato a schierarsi senza rendersene conto con la croce uncinata senza rendersene conto con la croce uncinata motivo per il quale diventa sempre più credibile quello che ha sempre detto Vladimir Putin e ciò che egli Vladimir Putin la federazione russa la Duma che è il parlamento della federazione russa intendono denazificare l'Ucraina perché lo sanno tutti che in Ucraina in Ucraina c'è tanta croce uncinata c'è una grande comunità ebraica che si lamenta dell'antigiudaismo che c'è in Ucraina per cui il mondo il mondo è tornato a dividersi in due come ai tempi della seconda guerra mondiale da una parte gli stati che si erano messi contro è il nazismo e dall'altra parte è il nazismo anche oggi è così senza rendersene conto i paesi dell'alleanza atlantica senza rendersene conto sono precipitati nel nazismo perché le sanzioni che sono state fatte contro la federazione russa contro Vladimir Putin sono in gran parte sanzioni contro gli ebrei della Russia in quanto gli oligarchi della Russia sono quasi tutti ebrei poi vi vorrei dire vi vorrei spiegare ma voi vi potreste dire ma com'è che noi siamo noi che non siamo ebrei siamo 7-8 miliardi e gli ebrei in tutto il mondo sono soltanto 15-16 milioni la metà nello stato di Israele l'altra metà in tutto il mondo ma perché sono così pochi gli ebrei ma semplice perché per gli ebrei vale un'antica norma sulla base della quale si diventa ebrei solo se si nasce dalla mamma ebrea solo se la mamma è ebrea per cui coloro che dicono il mio papà era ebreo quindi anch'io sono ebreo non sono per gli ebrei perché per gli ebrei giustamente solo la maternità è certa solo la maternità è certa e la paternità è sempre incerta io qua non faccio certi nomi eh ci sono anche in Italia dei personaggi importanti io non li nomino che dicono di essere ebrei perché sono figli di padre ebreo ma non di madre ebrea non sono ebrei al massimo sono ebrei ebrei a metà non li nomino eh non li nomino ma ce ne sono ce ne sono tanti che dicono di essere ebrei ma non lo sono perché avevano il papà ebreo ma non la mamma eh vabbè ma come si fa a sapere se la tua mamma è stata messa incinta da da un vero ebreo bisogna fare l'accertamento genetico della accertamento genetico della maternità queste cose comunque le hanno sempre sapute gli ebrei ecco perché sono pochi perché è veramente ebreo soltanto chi nasce da mamma ebrea il papà non conta il papà poi lo capirono anche gli antichi romani perché gli antichi romani dissero che la maternità è sempre certa la paternità è incerta e dei grandi uomini i romani dicevano figlio di una sola madre e di tanti padri vabbè qua termino cari amici evidenziando che e noi dell'alleanza atlantica noi della nato siamo tornati siamo tornati a fare dell'anti senza saperlo eh dell'anti iudaismo perché le nostre sanzioni contro la federazione russa vanno a colpire prevalentemente i russi della federazione russa perché quasi tutti gli oligarchi della federazione russa sono quasi tutti ebrei e adesso stanno trovando rifugio stanno trovando rifugio e dentro lo dentro lo stato di israele e sulla base della della legge del ritorno va bene cari amici spero di essermi spiegato eh caso mai non io non mi fossi spiegato voi non dovete far altro che procurarvi una copia di questa mia ultima opera vedete un romanzo storico il marinale dell'antilla ambientato dentro il terzo Reich dalla cui lettura potrete capire perfettamente ogni cosa ok cari amici a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni a tutti a tutti a tutti a tutti a tutti a tutti